Applausi Aterina chi? Aterina chi? Aterina chi? Con chi può parlare? Con chi può parlare? Con chi può parlare? Con Zia Maria? Zia Maria c'è morta C'è morta E si è morta Io sono nipote Io sono nipote O dica a me quello che ti ha detto a Zia Maria E noi gliela potete vedere che è morta Vabbè non è morta Sta cucina e sta a fare caffè Che gliela doveva dire? No sto a scherzà Che gliela doveva dire? Sì Chi è morto? Palmiro? Quando? Salatino Nel sogno Io non c'è lo tempo Oh mamma mia che notizia Isriso siete vertiti? Isriso siete vertiti? Amati pure i figli Quando? Uccidente stradale A un iso oltre due Mamma mia Buche e il cane a chi è riusciato? Il cane e buche Allo stradale Allo stradale 80 anni La targa l'avete presa? La targa del cane l'avete presa? La polizia l'avete avvertita? E poi quando l'aveva trovato? Oh mamma mia che notizia Oh mamma mia Il fratello L'avete avvertito? Il fratello L'apparezzato? L'avete La mano? Che senso? E' caduto Con femore Su un chiodo? Ah gli hanno messo il chiodo per fermargli il femore Eh? E ma non c'è come più? E ma che gli fai facendo dentro casa? La sorella penso E c'è la sorella? L'hanno vincolata C'è stata più che la testa C'è che ogni volta andava a casa sola Quanti anni metà 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 L'hanno vincolata Oh mamma mia che notizia E qui c'è rimasto più nessuno Sì? Adelaide Adelaide sei sei anni che è morta L'ho vista io Sì si è entrata la bara Sì era fredda C'erano gli occhi chiusi Sì Era per cagare Sì Un pallazzo non si muoveva più Sì Non sto a scherzare Prego Oh mamma mia che notizia Che macello qui Che nottato Che telefonata Oh Mi raccomando Non lo dite al nonno per via del cuore Non lo dite al nonno per via del cuore Non gli dite niente Ehi Che c'è il suo nonno? Gli hanno gestato il braccio destro Ma guardi nonno C'ha mai questo braccio destro Si stava tirando un po' Ma gli è rimasto a mano Si fa tutto col sinistro Oh non sto a scherzare Non sta a parlare Che nonno Aldo Guardi io nonno Aldo non lo conosco Ti giuro Non lo conosco Non lo ha Scusi che Scusi che il numero ha fatto Che il numero ha fatto 6868233 No Qui è 331 Si Si Con i bassi Si 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 è sbagliata Si si è sbagliata Buonanotte Si Buonanotte Si si Mamma mia Si Scusi Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.